bene ragazzi bentornati su RealNapoliFootball veniamo da due sconfitte consecutive molto sfortunate non tanto quella che abbiamo perso 1-0 come vedete contro il Napoli in un derby tutto napoletano ma soprattutto l'ultima persa 4-3 col Barcellona ragazzi partita spettacolare ma purtroppo ci è andata male non è stata una partita equilibratissima loro sono riusciti a fare un gol in più detto questo ragazzi mentre vi chiedo di mettere magari un mi piace a questo video e di seguirmi se vi va di iscrivervi al canale vediamo il sistema chi ci fa incontrare per cercare di beccare questa santissima seconda vittoria io perché mancano solo 6 partite quindi abbiamo solo 18 punti a disposizione e ne dobbiamo fare almeno 10 per poter accedere alla divisione 4 intanto l'avversario sembra essere stato trovato vediamo chi è Napoli Juventus Napoli Juventus sempre partita sentitissima anche se è solo online Benafro FC si chiama il nostro avversario nello specifico vedo ovviamente un Neymar ragazzi incontriamo comunque sempre gente con i fenomeni ormai mentre prima ancora ancora cazzo Lobo sta male ah curiosi men porca puttana è ma sta di merda io Lobo lo farei giocare Lobo lo farei e faccio giocare anche si male cosa me li tolgo nel pomeriggio li tolgo nel secondo tempo ma si dai e raga come stavo dicendo mentre all'inizio più si poteva incontrare qualche giocatore che aveva i fenomeni li aveva però non li aveva tutti speciali o comunque non era una squadra totalmente zeppa di fenomeni adesso praticamente tutti hanno tutto è assurdo è assurdo cioè hanno tutti i giocatori impossibili da marcare da fare comunque raga veniamo da due sconfitte consecutive molto molto pesante la situazione e affrontiamo la Juve quindi bisogna fare una grande una grande prestazione ci siamo ci siamo partiamo noi giochiamo ancora in casa Lobo Mario lui proviamo a manovrare con Kim Rachmani Lobotka bravissimo palla per Di Lorenzo Lozano come cazzo l'ha presa attenzione Rachmani che tra l'altro la prima partita di gioco è Rachmani cazzo stasera Lozano attenzione Osimen prova ad andare in profondità verso qua Roschella grandissima palla di Osin per Kvara Kvara prova a dribblare fermato dal difensore prova a ripartire la Juve Lobotka prova ad opporsi recupera palla Zambo chissà che se l'allunga attenzione De Nilsson Rachmani fantastico la palla arriva a Giannino Di Lorenzo Di Lorenzo che prova a cambiare tutto la palla arriva a Dosimen attenzione Zielinski vada Kvara troppo lenta la palla attenzione palla spaventosa per De Nilsson Kim ferma tutto Lobotka Zielinski allarga perché c'è Kvara Schella che è larghissimo Kvara Schella fermato ancora da Eder Militao il momento lo sta arginando la palla arriva a Zielinski Mario Rui Kvara Schella dribbling di Kvara cross di Kvara arrivo Simen niente da fare la difesa ci mette fuori attenzione Giannino Di Lorenzo prova a chiudere Kim Kim prova a chiudere non riesce a cogliere completamente Mario Rui il maestro fantastico Kvara Schella prova il dribbling Zielinski alla fine se la cava con un brivido e poi 1-2 anghissà Kvara Schella se ne va Kvara 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 entra in area Kvara Schella prova il cross fermato Kvara attenzione premare recuperare palla Kvara Schella dentro per Mario Rui cross di Mario Rui arrivo Simen niente da fare Lobotka appoggia per Kvara che però non ci crede attenzione Di Lorenzo su Denilson fantastico Di Lorenzo palla per il Ciuchi Osimena appoggia per Di Lorenzo che entra in area Di Lorenzo cross di mezzo Osimena niente da fare Ciuchi prova ad andare dentro Osimena Di Lorenzo anghissà dribbling fermato anghissà occasione per il contropiede palla fuori recuperiamo con il fallo laterale Lobotka anghissà raccmani cambia tutto verso qui c'è Kvara Schella che mette a terra Kvara Schella dribbling di Kvara Schella che tira Donnarumma Donnarumma Di Lorenzo Miselis che appoggia per Anghissà che larga per Kvara Schella che appoggia dietro Mario Rui che gliela ridà subito fantastico Kvara per Mario Rui ancora Mario Rui cross in mezzo Ciosimena niente da fare non riesce ad impattare Osimena di Lorenzo però recupera palla non ci riesce Pempe no non è una Pempe non lo so ma Mario Rui recupera palla che è la cosa più importante Kvara la riperde attenzione Lobo deve chiudere su Griezmann ah era Pempe perfetto Pempe chiude Kim che poi appoggia a Mario Rui per Kvara Schella che cambia tutto alla grande verso il Ciuchi Lozano che prova ad andarsene il Ciuchi fermato da Nuno Mendes attenzione recupera palla Giannino Di Lorenzo Anghissà dentro per Zieliski che prova ad andare verso Kvara Schella che crossa subito Osimena Anghissà Kvara Schella porca puttana ragazzi porca puttana a caricare le puttane si incarica porca troia ragazzi stiamo giocando da Dior lo botca prova a contrastare niente da fare recupera palla Anghissà che prova ad andare subito dal Ciuchi che la dà Ado Simen che prova a crossare e poi arriva Zieliski che non riesce ad impattare di testa attenzione Denis per andare in contropiede c'è il maestro che la mette fuori e poi recupera di nuovo palla fuori gioco ma potevano lasciarmi giocare potevano lasciarmi giocare e recuperate palla peccato peccato Kim prova ad andare da Lobo subito che appoggia Dosimena dentro per Mario lui che prova ad andare da Cavaraschelia Militao si oppone per l'ennesima volta attenzione Ziliski potevano ripartire subito comunque Mario Lui Zielo ancora Cavaraschelia 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 dentro per Mario lui che prova il cross Ciò Simen che non riesce ad impattare attenzione Lozano sul difensore Giannino Di Lorenzo Poggia Ciuchi che deve crossare arriva Simen niente da fare ancora poi Di Lorenzo si oppone ma palla sul fondo stiamo dominando stiamo dominando e sono anche incazzato perché non siamo in vantaggio Donna Roma rilancia attenzione Kim su Griezmann la prende Griezmann incredibile ma raccomani alla grande poi palla per il Ciuchi Lozano Lozano se ne va Lozano in questo caso fantastico palla per Zieliski che prova a crossare la palla non arriva dalle parti di Osimena niente da fare attenzione zero minuti di recupero folle proprio questa cosa primo tempo zero a zero una buona partita anche abbastanza divertente ragazzi abbiamo abbastanza dominato forse abbiamo tirato un po' poco in porta un po' poco forse bisognava cercare di creare un po' di più ci proveremo nel secondo tempo sempre se ci fanno iniziare la partita ci proviamo si parte a secondo tempo Zieliski recupera subito palla Zielo scende Zielo scende Zielo l'appoggia Clara Schelia troppo lunga cazzo Zielo dai Clara prova a recuperare palla ci riesce alla grande Zieliski palla provata ad andare da Anghissa niente da fare Lobo ancora per Zielo che va dentro da Anghissa la palla torna a Zieliski niente da fare Zieli Kim su Pempe però la palla finisce nelle mani della Juve attenzione Zielo prova a pressare niente da fare Militao prova ad entrare nella Juve in aria Pempe no De Nilsson di Lorenzo guarda andiamo a farlo laterale possiamo batterlo subito se arriva la palla di Lorenzo palla per Anghissa erroraccio di Anghissa poi la palla finisce incredibilmente a Pempe ma Kim la mette fuori un po' di confusione qui proviamo a recuperare palla non ci riusciamo Kim di Lorenzo miracolo di Giannino che però perdiamo la palla perdiamo troppe palle in uscita in questo modo attenzione Lobotka fantastico prova a cambiare tutto non ci riesce e ancora una volta guadagnano loro palla in uscita nostra Kim Kim perde palla ancora giocata strana qui ma riescono ad arrivare dall'altro lato incredibile Rachmani Anghissa fermato col fallo che cazzo direttore giallo direttore giallo ragazzi proviamo a fiondarci un po' più in avanti Rachmani viene Anghissa relativamente libero e gliela dà Anghissa appoggia per Osimene che prova a far correre il ciuchilozzano che prova ad appoggiare l'Anghissa non ci riesce Anghissa prova prima il pressing stretto Donnarumma rilancia Mario Rui svetta la palla arriva a Kvara Schelia Dreaming di Mario Rui per Ziediski dentro per Kvara Schelia che crossa troppo sul portiere ma Donnarumma ci regala un fantastico calcio d'angolo Lobotka prova ad andare per l'ennesima volta da Osimene per provare lo schema Osimene non riesce a spizzare attenzione Ziediski dalla distanza calcio d'angolo ci ha provato Zielo Lobotka prova ad andare subito da Osimene per prendere in contropiede la difesa avversaria non ci riesce Ziediski la parata di Donnarumma ed è ancora calcio d'angolo ed è ancora calcio d'angolo stiamo provando a creare qualcosa ci stiamo provando Lobotka proviamo un cross normale questa volta senza schema cross di Lobotka c'è il ciuchi non proprio il migliore dei saltatori qui la palla arriva alla fine a Mario lui incredibile qui riesce provare a partire la Juve Di Lorenzo Kim Rachmani Lobotka dentro per il ciuchi lozzano prova a darla al lobo attenzione dentro per Angissà Angissà fermato sul più bello qui Mario Rui fantastica giocata Di Lorenzo palla per Mario Rui fantastico Mario Rui Ziediski Angissà Angissà dentro per il ciuchi lozzano che si ferma il ciuchi cross del ciuchi c'è Angissà e Donnarumma fa solo la palla stiamo attaccando tantissimo ma noi riusciamo a concretizzare Lobo errore qui errore qui di Lobo mi sembrava in fuorigioco Griezmann ma a quanto pare no Kim prova a chiuderlo Mario lui che giocatore poi Angissà dentro per Ozyman giocata pazzesca di Angissà se ne va Ozyman Ozyman la spara alle stelle la spara alle stelle Ozyman azione pazzesca azione pazzesca ragazzi attenzione Ziediski non riesce a recuperare palla attenzione Kim forse siamo un po' stanchi adesso Kim su Pempe attenzione Giannino Di Lorenzo prova a contrastare Griezmann ci riesce poi ancora il maestro Mario lui incredibile e la dà subito per Quaraskelia che prova a dribblare niente da fare niente da fare Mario lui ancora contrasto c'era fallo qui Lobot carico per la palla proviamo il controvedere ancora Lobo 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 lancia verso Quaraskelia Quaraskelia prova il dribbling niente da fare ragazzi niente da fare niente da fare raccamani Lobotka Anghissano perché subito Ciuchi perché Di Lorenzo chiude tutto Giannino Di Lorenzo Anghissà attenzione palla per Zilischi che allarga verso il Ciuchi Lozano se ne va il Ciuchi Lobotka 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 fermato Lobo Zilischi palla per Anghissà Anghissà prova a girarsi fermato Zamm Anghissà Meret chiude tutto rilanciamo lungo ragazzi proviamoci proviamoci Osimène verso Quiccia Quaraskelia Quaraskelia appoggia per Mario lui che sta facendo un partitone pazzesco Zilischi prova ad andare dietro da Anghissà ma niente da fare un minuto ragazzi un minuto che cosa ridicola ma perché Rachmani Parigi 0-0 0-0 che è finita giornata piuttosto deludente una partita molto tattica molto bloccata grazie a tutti